Per cambiare le dimensioni del cursore del mouse basta premere il tasto ALT, contemporaneamente il tasto destro del mouse e scorrere il mouse da sinistra verso destra. Quindi a sinistra il cursore diventa più piccolo, andando verso destra il cursore diventa più grande. Posso anche andare a influenzare quelli che sono i contorni del cursore, quindi verso l'alto i contorni diventano più sfumati e andando verso il basso invece i contorni sono più definiti. In pratica quello che normalmente posso fare è attraverso questo menu e questi due parametri.